Ciao ragazzi, sono tornata! Vedrai, vedrai, prevedo, tra poco uscirà il tuo regalo, è proprio qui! Ah, non ci credo! Non ci credo! Nuovo giorno a Wicheland! Sì, mi accorgo che state vedendo uno sfondo un po' diverso, ma la punta di oggi inizia nel paese delle streghette, appunto, Wicheland. È un posto un po' magico, abitato da tante ragazze, appunto, streghettine, che fanno magie e tutte quante, si allenano tutti i giorni per diventare sempre più magiche e sempre più potenti. E voi vi chiederete che cosa c'entra con la storia di Prevedo? Ebbene, Prevedo ha fatto la scuola per diventare strega insieme a loro. Loro abitano nell'intermondo. L'intermondo è un posto sospeso tra la realtà e la fantasia. E ovviamente tutte le LOL del mondo LOL non sanno propriamente l'esistenza di questo mondo. Sanno che Prevedo ha studiato per diventare streghetta, ma certe cose restano segrete. E l'accesso in questo mondo è riservato soltanto a chi ha i poteri magici o chi ha studiato nella scuola delle streghette. Ciao ragazze, sono tornata! Ciao, ma che ci fai qui? Già! Sei qui, esatto ragazze! Ma come mai sei tornata? Non ti sei trovata bene nel mondo delle LOL? Sì, sì, mi sono trovata benissimo. Era proprio la mia casa. Ma ho avuto una delusione e volevo allontanarmi per un po'. Ma che cosa ti hanno fatto? Eh, ho conosciuto un LOL bellissimo. Barbara e Lara hanno scartato una coppia di Ball in edizione limitata. E lui è veramente meraviglioso, ma il suo cuore è già occupato. Hai detto due Ball? Sì, una LOL e un Lollo. Sono fidanzati quindi? No, sono BFF. Cosa? BFF? È una formula magica? Ma no, vuol dire best friend forever. Sono migliori amici. La sua fidanzata? Non la conosco, ma lui non la dimentica. Gli ho sentito dire che non dimenticherà mai il suo profumo. Hai sentito? Sì, ci ha creduto. Meno male. Mi devo rassegnare. Ho deciso di tornare qui per un obiettivo importante. Sarebbe? Voglio prendermi l'abilitazione. Ecco, voglio diventare streghetta a tutti gli effetti. Basta previsioni imprecise su... Diciamolo. Non ho mai azzeccato nulla. Non ho neanche il mio pet. Non sono in grado di farlo uscire dalle Lills. Sono un vero fallimento di streghetta. E l'abilitazione non è che sia una cosa così importante? Eh sì, lo è. Ho bisogno di un traguardo. Ho bisogno di una motivazione. E poi, in questo modo, mi toglierò dalla testa il pensiero di Tiziano. Ah, hai detto Tiziano? Sì, certo. Perché? Eh, no, no. Nulla. È solo che non avevo sentito bene il nome. Va bene. Ora vado perché sono proprio stanca. Notte. Buonanotte a tutte. Ci vediamo domani a scuola. È notte, prevedo. E ovviamente ventornata tra noi. Mi dispiace che tu sia triste e che abbia avuto una delusione. Però devo dire la verità. Sono veramente contenta di vederti nuovamente e di averti qui con noi. Grazie. Mi fa molto piacere. È bello. Dovunque vado, trovo tante belle e brave amiche. Peccato che non trovo l'amore. E neanche il mio petto. Però vedi? Anche nella disperazione mantengo il mio amore. Frismo. Prevedo? Cosa c'è? Eh, hai dimenticato la borsa. Ah, sì. Hai ragione. Scusami, ho dimenticato la borsa. Ma scusami un attimo. Eh, cosa c'è? Eh, ananas. Eh, dai, sì. Dici che è poco da streghetta? Ah, in effetti. Eh, ma la mia non la trovavo. Eh, vabbè, ho preso questa. Bopò, vado a dormire perché sono proprio stanchina. Ok, a domani. Ciao, ragazze. Ehi, Arachnia, hai visto? Eh, certo che ho visto. È tornata a prevedo. Che bella cosa, sei contenta? Sì, sì, molto. Anch'io. Ma, praticamente, avete notato? Ha parlato di un ragazzo. Sì, 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 so tutto. Anch'io l'ho notato. Come se restai tutto? Che si racconta pure a me cosa sarebbe questa cosa, so tutto. Perché io l'ho saputo da lei e tu invece già lo sapevi? È una lunga storia. Abbiamo corso un grosso pericolo. Cosa? Scusatemi. Perché sono l'ultima a sapere le cose? Non sto capendo niente. Spiegatemelo. Prevedo ha incontrato un lollo. Sì, esatto. Ha detto che si chiama Tiziano. Sì, esatto. Io questo nome l'ho già sentito. Ci credo. È legato a una storia. Ah, ma io non me la so questa storia. Cioè, ho sentito questo nome tante volte. Però non me la racconti. No, adesso no. Non è il momento. Già. Uffa, ma che cosa sono tutti questi segreti? Em, Katia. Che c'è? Lascia stare una lunga storia. Te ne parlerà domani Vampiria. Ok? Ma io sono curiosa. Voglio sapere tutto adesso. Non c'è. Attendi. È andata in un posto. Ecco. E questo posto sarebbe? Eh, non te lo posso dire. Uffa, ho un mistero dietro l'altro. Voi mi nascondete delle cose. Io le vorrei sapere. Ma perché non devo? Ma... Uffa. Non va bene questa cosa. Non sono così contenta, eh. Abbi pazienza. Non posso rischiare che Prevedo ci senta. E soprattutto, se la incontri, non dirle nulla. Lei domani verrà a scuola. Non chiederle nulla. Uffa. Va bene. Non devo sapere niente. Non devo dire niente. Non devo parlare con niente. Non devo stare zitta. Non devo... Sarò muta come una tomba. Però... Gli possiamo fare un regalino di benvenuto? E dai! Aracnia, ti prego. Sì, dai, è una bella edà. Una magia. Una magia piccola piccola. Piccolina piccolina. Va bene, va bene. Dai, dai, dai. Va bene. Eh? Ma... Ma dove è andata? È già andata da Prevedo. Ah, mappa che velocità. Come mai vi avete riportato qui? Ehi, Prevedo. Vogliamo darti un regalo. Oh, cosa? Tu non hai ancora visto le novità del mondo delle streghette. Il nuovo calderone, ad esempio. Sarebbe quello laggiù. Dici quello? Sì. Oh, che bello. E non hai visto ancora niente. Ah, le luci. Ma è bellissimo. Prevedo che farà magie. Sì, esatto. Adesso che ci sono le tenebre, le luci si vedono ancora meglio. Basta dire la parola magica, mettere gli ingredienti dalla ruota e ci sarà qualcosa per te. Wow! Nel calderone è una pietra preziosa. Ecco che prende il suo potere. Vedrai, vedrai, Prevedo. Tra poco uscirà il tuo regalo. È proprio qui. Ah! Non ci credo. Ho ancora una possibilità. Ah, eh già. Ma speriamo che la possibilità... Dimmi, Prevedo. Non faccia rima con... Con? Con... Con... Le ragazze avevano fatto una sorpresa a Prevedo facendo apparire una Lilz. Ora, c'è solo da sperare che ci sia il pet di Prevedo perché già è un po' depressa. Se dobbiamo un'altra Lilz o un altro pet sarà un disastro. Allora, Prevedo. La scartiamo? Eh, ma io non sono tanto capace. Ci vorrebbe qualcuno tipo Barbara e Lara? No, no, no. Non ti preoccupare. Useremo la magia questa volta. Ah, va bene. Ok. Cernierina. Incredibile. Ho sentito scartarsi la cernierina da sola. Questa è proprio una vera magia. Eh, ma per chi ci hai preso? Siamo streghette, eh, mica... Vabbè, va. Siamo streghette. Oh, no. L'indizio non è quello. Fammi capire. L'indizio è quello giusto. Eh, non lo so. Andiamo avanti, va. Magari ti piace anche se non è il tuo pet. Ecco, già lo sapevo. Già sento l'alito della luna nera sul collo. Seconda cernierina. Et voilà. Wow. E ora, ultima cernierina. Saccati. L'ho fatto. Dai, dai. Sono curiosa. Vediamo che cosa c'è dentro. Apriti. Non ci riesco. Qui ci devono proprio aiutare Barbara e Lara. Vabbè, dai. Vi aiutiamo noi. Allora. Prima bustina. Ok. Vai. Vai tu, Lara. Va bene, mamma. Allora, avete visto già l'indizio? Allora, l'indizio è questo. Niente. L'indizio è quello sbagliato. Vabbè, vai tu. Un collarino. Un collarino. Quindi, un pezzo. Eh sì, speriamo che sì. Questa è una bozzina. Apri la te. Di chi è? Prevedo. Che cosa immagini che ci sia? Ma non lo so. Hanno detto che l'indizio è quello sbagliato. Eh, in effetti l'indizio sembrerebbe quello sbagliato. Non so che dirti. Vabbè, andiamo avanti. C'è una borsetta ABC. E adesso andiamo con la bozzina finale. Con il pezzo. Andiamo con il pezzo. Con la Lillo. Però credo che sia il pezzo. Perché se abbiamo trovato il collarino, è ovvio. Eh sì, sarà un animaletto. Benvenuto a un benvenuto. Non ci credo. Prevedo. Non ci credo. Prevedo. Ma è arrivato. È arrivato il tuo pet. Allora forse questo è il destino. Cioè? Che io stia qui. Nel mondo delle streghette. Io spero che tu torni di là. Eh, lo so. Ma non è ancora il momento. La mia storia non è ancora finita. Eh, lo so bene. Ci sono ancora un sacco di puntate. Ma quanto è bello questo micino. Non ci credo. È bellissimo. Questo è il micceicattei. Ah, finalmente c'è la lunetta dietro. Ovviamente è una luna bianca. Non è una luna nera. Eh, magari un'inversione di tendenza. Che carina. È proprio bellina. Ma cambierà colore nell'acqua fredda? Eh, non lo so. Bisognerebbe provare. Non puoi fare una previsione? Ah, ah, ah. Molto divertente. No, faceva ridere davvero. Lara, prendi l'acqua. Ecco qui l'acqua. Ma, prevedo, ma che cosa ci devi fare con questo bicchiere gelato? Eh, eh, eh. Non fate mica magie solo voi. Cioè? Ecco, questa cosa non la sapete fare. Vi mostrerò io come si fa. Allora, qualcosa di magico lo fai. Vieni micina, devi entrare nell'acqua. Eh, eh. Le fai il bagno nell'acqua fredda. Non vi preoccupate e osservate. Che cosa succederà? Oh, ma è meraviglioso. Ma sta cambiando colore. È tutto arancione. Eh, già. Visto, anch'io riesco a fare le mie magie. Adesso ho l'amicina arancioncina. Oh, quanto sei bella. Quanto ti ho aspettato. A Barbara e Lara hanno scartato un miliardo di Lilz. E non uscivi mai. E io? Niente. La luna nera. Ma adesso sei arrivata tu. Come la chiamerai? E lei si deve chiamare Luna Bianca. Che bel nome. Eh, sì. Vieni, Lunetta. Miau. Prrrr. Grazie alla magia delle streghette Pinipon. Prevedo aveva avuto quella piccola iniezione di, diciamo, di positività. Insomma, finalmente aveva trovato il suo pet. La sua Luna Bianca, che chiamerà Lunetta, era veramente bellissima. E finalmente aveva qualcuno con sé che le faceva compagnia. E che magari le ricordava anche un pochino il mondo LOL, oltre al mondo delle streghette. Eh, senti, prevedo. Dimmi tutto. Siccome la tua gattina Lunetta o Luna Bianca, come la chiamete, ti ha regalato quella borsetta, mi vuoi regalare quella con gli ananas? Va bene, va bene, certo. E la puoi prendere tu? Eh, lo so, prima mi prendono in giro, che dicono che non è una borsa adatta. Poi, invece, sono velocissimi a prendersela, vedi? E evidentemente, perché sono una streghetta di tendenza. Buonanotte, ragazzi. Adesso veramente vado a dormire. Ci vediamo domani per la lezione. Ok? Salta dentro. Miau. E andiamo. Ciao, ragazzi, buonanotte. Ciao. Katia, hai avuto una bellissima idea a far uscire la Lille. Adesso è proprio contenta. E beh, sì. Però poi mi dovrete spiegare un po' di cose, eh. Non me la raccontate giusta. Ci sono troppi segreti. E io non voglio avere segreti con voi. Cioè, più che altro, sì, ci possono anche essere segreti. Ma io li voglio sapere. Ok, ragazzi, vado a letto anch'io. Buonanotte. Buonanotte. Calò la notte nel regno delle streghe. Le ragazze avevano fatto piacere a Prevedo. L'avevano accolta bene. Le avevano anche fatto trovare il suo pet. Ma ci sono dei segreti. Ci sono delle cose che non sono ben chiare. Loro conoscono qualcosa. E manca all'appello ancora una streghetta. Vampiria. Che non abbiamo ancora visto. Ma che vedremo presto nelle prossime puntate. Quindi, ragazzi, restate con noi. Iscrivetevi al canale. Spuntate la campanella per non perdere le prossime puntate. E sapere tutto, tutto, tutto. Di questa storia che sta prendendo risvolti magici. E che è piena di misteri e di segreti. Forse è un mistero che coinvolge anche Tiziano. Ancora non sappiamo. Forse c'è qualcuno che lo vuole per sé. Forse è promesso un'altra sposa. Forse c'è qualcosa sotto. Ragazzi, continuate a seguire la serie. Perché ne vedrete delle belle. Un bacio a tutti quanti. E qua vi metto la miniatura della playlist. Così se non avete visto le puntate precedenti. Potete recuperarle e guardarle tutte quante. Ed essere aggiornatissimi su questa serie. Ciao ragazzi!